Segue ora l'intervento nell'onorevole Inselvini per il tempo di un minuto. A differenza di ciò che viene propagandato dalla sinistra, la legge vigente in materia di aborto in Polonia in questo momento rappresenta una speranza per tutti noi europei. La Santa Madre Teresa di Calcutta sosteneva che il più grande distruttore di pace oggi è l'ingiustizia commessa contro l'innocente bimbo non nato. Perciò ricordiamoci che c'è sempre un'alternativa e spetta a noi qui trovarla per il bene dei bambini e delle donne, non solo di chi è qui ma di chi verrà. Accogliamo la vita anche qui al Parlamento europeo con amore e con il coraggio richiamato dal Papa Francesco di esempi come Re Baldovino e se davvero vogliamo la pace, come ci diciamo spesso in quest'Aula, allora diamo voce a tutti coloro che una voce non l'hanno potuta avere. Grazie. C'è un cartellino azzurro per lei, onorevole Bartman, cartellino azzurro. Sorry, I said Miss Bartman. Ah, sorry. Avevo detto onorevole Bartman. Vorrei parlare olandese. L'ho ascoltata e allora avrei una domanda da rivolgerle. Beh, chiaramente lei è un uomo, ma immagini di essere una donna. Ci sono problemi di interpretazione? Sente bene, onorevole? Quello che lei dice è una vergogna. È vergognoso. Lei dice che la legge in Polonia rappresenterebbe un modello per l'intera Europa. Non sono assolutamente d'accordo. Le dico una cosa. Se lei fosse una donna e se fosse stata violentata brutalmente e dovesse portare dentro di sé per nove mesi un figlio e poi allevarlo in amore, è vergognoso quello che lei dice per l'Europa. Le affermazioni, come tante delle affermazioni fatte dalla sinistra, confermino la vostra visione ideologica. Perché ci si dimentica che ciò che sta nove mesi nella pancia delle madri è una persona. Bisognerebbe semplicemente riconoscere la realtà e la verità. Non la mia opinione o quella dei partiti di centro-destra, ma la verità di questo mondo. Per cui grazie per avermi fatto sottolineare ancora una volta la vostra ideologia e la vostra mala fede. Grazie.